Suspira, un bacio sospeso di Milena Bonvissuto. Non dimenticate mai che per uscire dall'inferno dovrete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti è sempre una partita con la vita. Siete pronti? Così Ania si rivolse ai suoi interlocutori. Lei così fredda, ma a fuoco, vivo, al tocco delle labbra del suo uomo. Niente regole, niente imbarazze. Ricordo bene l'abito di quella sera. Nero, con una lunga cerniera che ripercorreva la schiena. La pioggia era incessante. Un fulmine illuminò la stanza e un tuono ci stordì. Andò via la luce. Lucas mi prese una mano e mi diede un bacio sul collo. Mi girai e il mio sguardo rimase fisso sui suoi occhi. Mi mise una mano dietro la schiena e con l'altra accompagnò la cerniera. Abbassò le spalline e il vestito scivolò. La seta non crea difficoltà. Scivola. Mi sciolse i capelli e mi sussurrò che ero una calamita da cui il suo pensiero non poteva staccarsi. I lampi continuavano a mettere in risalto quella pelle bianca. Ormai eravamo un'unica cosa. Lui si tolse l'ultimo brandello di vestito. Ormai non c'era via di ritorno. Il profumo di ognuno di noi era mischiato al legno di pino che ardeva nel camino. Lo stesso fuoco che ci travolgeva. Il tappeto rosso porpora ci fece da complice. Ormai tutto era in tempesta e io mi sentivo come una grande nave che aveva perso il controllo.